Si torna a parlare di fabbisogno del personale ai lavoratori precari a Palazzo del Carmine, ci sono delle novità? Sì, c'è stato il 27, un importante incontro con i sindacati dove appunto abbiamo approvato il piano triennale del fabbisogno del personale 2018-2020 e all'interno appunto di questo piano c'è la firma che è stata apposta dagli ex ASO e PUC che abbiamo, così come abbiamo detto appunto giorni fa ha portato da 34 a 36 ore. Poi l'altro aspetto importante anche all'interno dell'albe libera è per quanto riguarda la stabilizzazione dei precari che abbiamo attuato la proroga fino al 2018 a 20 ore ed è chiaro che questo è un tema molto importante proprio perché da parte nostra siamo orientati, così come abbiamo sempre detto, per la stabilizzazione dei precari che speriamo possa avvenire più presto aspettiamo importanti notizie per quanto riguarda l'Assemblea regionale. In termini di servizi cosa può significare questo? Sicuramente in termini di servizi è un aspetto molto importante, nel senso che i pensionamenti come abbiamo detto ormai ripetuto mille volte sono un fatto ormai diventato quotidiano per il nostro comune. La dotazione organica è quella che è, 405 persone che non basta sicuramente per questo comune più i pensionamenti che il prossimo anno 2018 saranno 28, quest'anno sono stati 18 e quindi capite bene che 46 persone verranno meno dalla forza organica del nostro ente. Questo implica ovviamente un maggiore impegno da parte dei nostri dipendenti che sicuramente sono dipendenti che svolgono benissimo il loro proprio lavoro e hanno molta professionalità ed è chiaro che una riorganizzazione così come abbiamo fatto nella macro struttura dell'ente dobbiamo monitorarla ancora di più proprio per assicurare quei servizi essenziali che un comune come il nostro deve sicuramente attuare. Un altro importante avvenimento è stata appunto l'approvazione dei fondi, dei fondi dei dirigenti e dipendenti sempre nell'ambito di questo incontro con i sindacati del 27 dicembre e poi un altro aspetto molto importante e lo dico proprio perché credo che sia anche questo un segnale che viene da qualche parte della nostra amministrazione che i dipendenti comunali il 18 dicembre hanno trovato nel proprio conto corrente gli stipendi e la tredicesima, cosa che non era mai successa in questo comune. Capitolo concorsi, si può fare il punto della situazione? Capitolo concorsi, proprio l'altro ieri ho letto sulla Sicilia un'importante intervista al Presidente della Regione Musumeci noi abbiamo oltre la carenza della penda organica abbiamo la carenza dei vigi urbani dove appunto il Presidente della Regione aspicava lo sbocco dei concorsi soprattutto per i vigi urbani che voglio ricordare in questo comune sono 60, due sono andati in pensione proprio quest'anno su una situazione organica di 98 vigi urbani abbiamo 60 vigi urbani è chiaro che con tutte le nuove attività che sono impiegate oggi come oggi i vigi urbani non bastano sicuramente e quindi io spero e mi auguro che a più presto possano essere sbloccati i concorsi.